Ehi, com'è che era? Yo, oh yo, oh yo Eh no, oh yeah, oh yeah, oh yeah Preparati a ciò che ti sto per dire Eh Tutti i tuoi Sì? Tutti i tuoi amici hanno preparato un regalo per te E per prendere la tua fiducia L'ho guardata un po' e potrebbe anche funzionare Certo che noi prepariamo le cose per prendere la tua fiducia Che cosa vuol dire? Ma poi ha detto che è un regalo Dammi quel libro No, perché non è finito ancora Non è finito Fammi finire Alla tetta Oppure questi strattiti cadono sopra di te Esatto, aspetta Se ne mosso uno Cosa? No, tranquillo Dammi il libro Stai tranquillo Per cosa?